Io vorrei chiedere a Scanzi una cosa prima, che effetto ti fa vedere l'opposizione, le opposizioni ma non solo perché anche Matteo Renzi a usare il numero dei morti come elemento di critica politica? Mi fa orrore, mi fa orrore, il professor Galli aveva già spiegato benissimo questa vicenda anche uno o due settimane fa credo durante una puntata di Carta Bianca, poco dopo un intervento di Matteo Renzi che aveva riverberato le stesse sciocchezze che poi sostanzialmente ha detto al Senato Ma vi posso dire che non è vero che abbiamo più morti degli altri paesi in proporzione semplicemente se li calcoliamo su un denominatore che è incompleto perché manca probabilmente più di un milione di infettati della prima ora al denominatore dei morti, se lei prende le infezioni che abbiamo avuto dal primo di settembre a oggi infezioni documentate e ovviamente molte le abbiamo anche perse, abbiamo il 2.1 di letalità che è esattamente uguale a quello tedesco se invece ci mettiamo quelli della prima leva, abbiamo fatto 220.000 tamponi, abbiamo avuto 29.000 morti, abbiamo avuto il 13,5% di letalità e per forza morti su malati gravi o gravissimi come denominatore sotto, è evidente che ti viene un tasso di letalità spaventoso questo è quello che è successo, quindi anche su questo abbiamo dei conti fatti male fino adesso o comunque delle cose non dette chiare alla gente Io non ho trovato sempre convincente Giuseppe Conte, soprattutto al Senato l'ho trovato un po' stanco quando poi ha citato Nencini, Quagliariello, sembrava veramente che in qualche modo elemosinasse i voti ma c'è stato un passaggio che ho apprezzato molto, quando ha detto teniamo fuori dalla ridda politica il conto e il numero dei morti perché non si fa sciacallaggio politico su quella cosa lì e purtroppo io l'ho visto fare nella destra, più che nel centro-destra, nella destra I dati che non sono opinabili purtroppo, e sottolineo purtroppo, dicono che siamo i primi al mondo tra i grandi paesi per morti di Covid E purtroppo l'ho visto e l'ho sentito fare anche Matteo Renzi, non dimentichiamoci che durante il lockdown il signor Matteo Renzi al Senato ebbe il coraggio di dire, lo cito a memoria, quindi potrò sbagliare qualche parola ma il succo era, i morti di Brescia e di Bergamo ci dicono di riaprire Ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più che ci avrebbe detto se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi Quindi o era diventato un medium oppure era diventato un politico che in qualche modo era convinto di sapere cosa avrebbero detto i morti Io queste cose le lascerei stare perché già la politica è svilente, già il momento storico è terrificante almeno i defunti, per correttezze, per umana pietas, li lascerei stare